ben tornati Wonders in questo nuovo video ASMR oggi vi porterò un video di un unboxing è un regalo che mi è stato fatto ed è davvero molto triggeroso sono delle scarpe e si può notare dalla scatola la scatola questo è un rumore molto molto bello molto bello non 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 ma queste scarpe le ho usate una volta per provarle e sono davvero belle soprattutto comode ho voluto rimpacchettarle per farvi sentire i rumori che sono davvero bellissimi Sì questo è un scarpe sono fatte così dietro riprendono un po' la cartina geografica ci sono i loggi mettiamoli dentro è quasi stritta la marca un po' la carta Grazie a tutti. A queste scarpe c'era attaccato questa etichetta che riprende un po' questo estile e appunto possiamo vedere la cartina con cui noi qui in Italia dovremmo essere esattamente qua. Non si vede tantissimo, però è davvero bello come stile, mi piace tanto. E questa non è la marca, ma penso l'abbiate capito già da prima. Non si vede tantissimo, non si vede tantissimo. 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 Non si vede tantissimo, non si vede tantissimo.